Siamo al Museo Civico del Torrione. Dobbiamo dare una brutta notizia, ma è importante farlo. A titolo precauzionale, siccome sono avvenuti dei piccoli cedimenti dalla merlatura del Torrione, la struttura resterà chiusa fino al 15 luglio, data in cui ci sarà un primo incontro con gli uffici della sovrintendenza e si studieranno i prossimi step da fare. Nel frattempo verrà subito fatto un lavoro di messa in sicurezza per tutelare i residenti e le attività che sapientemente sono portate avanti dall'Associazione Radici sono state momentaneamente spostate al Chiostro di San Francesco, dove contestualmente stanno andando avanti anche le attività promosse da Lischia Global Fest, tra cui una mostra organizzata con l'Associazione Nazionale Mare Vivo e ulteriori eventi che verranno pubblicizzati sulle pagine social del Comune. Seguite per ulteriori aggiornamenti.